A potenza la politica cittadina verso la giunta guarente, intanto caos nel Partito Democratico. A Matera il Consiglio regionale della Wilma, la presenza del segretario Palombella. Matera 2019, a Roma il bilancio dei sei mesi di attività e le prossime iniziative. A Cava del Sole, con il concerto del volo, il primo di una serie di eventi nel teatro all'aperto. Festa della Bruna torna da oggi su TRM Network, aspettando il 2 luglio. Verso la giunta comunale a potenza il sindaco guarente a lavoro con la maggioranza di centrodestra. Tra le opposizioni è resa dei conti nel PD cittadino. Vediamo. Si lavora nella maggioranza di centrodestra per definire la giunta del neosindaco di potenza Mario Guarente. Nove le caselle a disposizione, quattro riservate al femminile, con ipotesi di figure interne rispetto a quelle tecniche. A fare la voce grossa sarà la Lega, partito del primo cittadino e che nell'assemblea di Via Nazario Sauro ha eletto cinque consiglieri su 32. Assessori in pectore sarebbero Stefania Dottavio e Rocco Coviello, già con delega all'ambiente. Il carroccio ha eletto anche Rocco Bernabei, Gianmarco Blasi e Patrizia Guma. Da tenere sott'occhio la lista potenza civica, dove il consigliere più votato, Francesco Cannizzaro, è fortemente indicato per un posto di governo e potrebbe scattarne un secondo tra i consiglieri Alessandra Sagarese, ex centrosinistra, e di volti nuovi Massimiliano Di Noia e Giuliano Belluzzi. Preme Fratelli d'Italia, che guarda la delega allo sport e politiche sociali, con il riconfermato consigliere Alessandro Galella e sull'ex vicepresidente del Consiglio regionale, nonché in passato già tra i banchi dell'opposizione potentina, Michele Napoli. Tra gli altri eletti vi sono Maddalena Fazzari ed il riconfermato Giuseppe Giuzio, alleato alla finestra e idea con Giuseppe Pernice, Michele Beneventi e Tonino Di Giuseppe, altro ex PD. Resta in piedi la scelta esterna sull'assessore al bilancio, da capire le mosse di Forza Italia, dove Fernando Picerni, consigliere uscente, eletto anche in provincia, punterebbe al ruolo di presidente dell'Assemblea Comunale. Gli altri consiglieri azzurri sono Fabio Dapoto e Matteo Restaino. Assessore a sorpresa potrebbe essere Antonio Vigilante, di lista civica per la città, alla seconda esperienza da consigliere. L'opposizione sarà invece chiamata al suo ruolo naturale, tra i riconfermati, Bianca Andretta, candidata sindaca della coalizione di centrosinistra, Vincenzo Telesca e Roberto Falottico del Partito Democratico, Angela Blasi per Insieme per Bianca, Francesco Flore di Più Europa, Progetto Popolare e Rocco Pergola per la potenza dei cittadini. Prima volta per Valerio Tramutoli, candidato sindaco della coalizione Basilicata Possibile, insieme a Francesco Casella, Angela Fuggetta e Francesco Giuzio, eletti consiglieri. Neoeletto anche Pierluigi Smaldone di Potenza Città Giardino ed il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Marco Falconeri. Questo mentre le dimissioni da segretario del PD Lucano di Mario Polese hanno aperto gli scenari congressuali. A cascata, il componente della Commissione di Garanzia Regionale, Carmine Croce, si è scagliato contro il segretario di Potenza, Donato Pessolano. Panni sporchi da lavare in casa dopo la debacle elettorale per ripartire con nuove idee, ha detto l'infa ed entusiasmo. E a Matera il Consiglio regionale della Wilma Basilicata, la presenza del segretario Rocco Palombella, vediamo quali i temi affrontati. Si è riunito a Matera il Consiglio regionale della Wilma Basilicata, appuntamento che ha concluso il lungo percorso organizzato dalla segreteria nazionale della Wilma in tutti i territori nazionali per discutere del prossimo importantissimo rinnovo del contratto nazionale metalmeccanico. Lo sciopero nazionale dei metalmeccanici, organizzato il 14 giugno scorso nelle tre piazze di Milano, Firenze e Napoli, il problema delle morti sul lavoro, le tante vertenze aperte in Basilicata, la necessità di potenziare un settore strategico per la regione, questi gli argomenti affrontati alla presenza del segretario generale dei metalmeccanici della Wilma, Rocco Palombella, e di tutti i rappresentanti lucani del sindacato. Noi vogliamo dimostrare che è possibile far convivere l'industria e il turismo, non c'è alternativa tra l'industria e il turismo. E qui purtroppo la parte importante, quello che pulsava di più, che era l'industria, rischia di rimanere indietro e di creare delle difficoltà economiche molto forti, perché mentre la parte invece del turismo è riuscita a fare un passo in avanti, però di solo turismo non riusciamo a reggere. Quindi noi dobbiamo fare in modo che anche il sistema industriale, oltre ad essere preservato, deve essere rilanciato, perché ci sono le tecnologie, ci sono tutte le azioni positive, anche da un punto di vista delle professionalità esistenti, per poter cercare di rilanciare questo territorio. Ad aprire i lavori il segretario regionale della Wilma Basilicata. La Basilicata con tutto quello che sta vivendo in questa fase è molto particolare, perché viviamo ancora tante crisi aziendali, tante situazioni annuose, a partire appunto da quella storica della Ferro Sud di Matera, diventa punto importante appunto di confronto con tutti i delegati di tutta la regione Basilicata, in questo luogo importante per l'Italia, ma soprattutto per la Basilicata. E a Sant'Eramo in Colle è arrestata i 5 persone per estorsione ai danni di un imprenditore agricolo. Vediamo i dettagli. Vessato per 3 anni con richieste di denaro e di lavoro, tra il 2016 e il 2019 avrebbero fatto pressioni sul titolare di un'impresa agroalimentare di Sant'Eramo in Colle. Per questo agenti della squadra mobile della Questura di Bari hanno eseguito un provvedimento cautelare a carico di 5 persone, 3 arrestate e 2 sottoposte a obbligo di dimora. La misura cautelare è stata eseguita in carcere nei confronti di Pietro Cardinale, 30 anni, Ilario Nellosito, 43, e Francesco Passarelli, 34. Per altri due presunti complici, 28 e 54 anni, il GIP del Tribunale di Bari ha disposto l'obbligo di dimora a Sant'Eramo e il divieto di avvicinamento alla vittima. Le indagini della DDA, iniziate dopo la denuncia dell'imprenditore nel gennaio del 2019, avrebbero accertato diversi tentativi di estorsione nei confronti della vittima. L'imprenditore fu anche aggredito in un bar dai suoi aguzzini la sera dell'8 gennaio del 2019. L'Osito, già sospettato di aver provocato l'incegno dell'auto dell'imprenditore nel febbraio del 2016, è accusato di aver tentato di estorcere alla vittima 5.000 euro insieme a uno dei due indagati colpiti dall'obbligo di dimora e da Cardinale. Quest'ultimo avrebbe preteso in più occasioni, con violenza e minaccia, insieme ad altri quattro complici, di essere assunto presso l'azienda agroalimentare, che era in forte espansione. Gli indagati sono accusati di tentata estorsione aggravata e continuata all'Osito, anche di violenza privata. Due giovani di 18 e 21 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Rionero in Vulture con l'accusa di concorso e furto aggravato. I due, secondo l'accusa, hanno rubato il motorino di proprietà di un uomo di 66 anni. Il motorino è stato restituito al proprietario. Zona economica speciale, in una lettera inviata al governatore Lucano Vito Bardi, il sindaco di Ferrandina sollecita la necessità di ammodernamento della strada statale 7 Matera Ferrandina. E' noto a tutti, scrivono il sindaco Martocce e l'assessore Zizzania, quali siano le criticità che interessano infrastrutturalmente questo territorio e quanto il traffico crescente evidenzi questo problema in termini di raggiungibilità e di sicurezza. Il tratto stradale è inadeguato e insicuro. Il decreto istitutivo della ZES impone quindi un'accelerazione in questa direzione. Urge collegare l'area basentana con Matera e con Bari, diminuire i tempi di percorrenza, dai per il capoluogo di regione e dotarsi finalmente di un'opera che serva anche da leva sul piano turistico. Ed è partito stamani ancora un cattiere nella città dei Sassi, capitale europea della cultura. Si tratta di quello relativo al rifacimento dell'asse via Lucana via 20 Settembre. A darne notizia tramite la sua pagina Facebook l'assessore dei lavori pubblici del comune di Matera, Nicola Trombetta, le immagini mostrano il rifacimento dei marciapiedi e dell'abitumazione di via Lucana dinanzi all'istituto scolastico padre Giovanni Minozzi. I lavori in toto prevedono la riqualificazione degli attraversamenti pedonali e dei percorsi di accesso al centro storico lungo tutto l'asse viario via Lucana via 20 Settembre. 1.250.000 euro l'importo delle opere previste per l'ammodernamento della dorsale saranno realizzate in 60 giorni lavorativi. L'intervento comprende il tratto dalla provincia fino alla villa comunale e la realizzazione di 14 attraversamenti pedonali. saranno inoltre riqualificati i marciapiedi e le strade che intersegano via Lucana, via Protospada, Cappelluti, Passarelli, via Roma, De Blasis, Gramsci, Spine e Bianche. Un pianoforte a disposizione di tutti per riempire di cultura, bellezza e condivisione uno degli spazi più ammirati di Matera, il belvedere guerricchio. Nei giorni scorsi è stato vandalizzato e letteralmente distrutto, un atto vile, senza giustificazioni, che ha indignato i cittadini, tanto che qualcuno sui social ha proposto una raccolta fondi per riacquistarlo. Non è la prima volta che accade, un gesto ignobile che mette in luce grande mancanza di rispetto, il peggiore di tutti i mali. E ritardi a potenza per l'apertura della Bibliomediateca. Vediamo. Sarà un incontro in programma il prossimo 24 giugno al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali a stabilire la data di inaugurazione entro settembre della Bibliomediateca di Via Lazio a Potenza. È quanto reso noto dal presidente della provincia Rocco Guarino, il quale aveva auspicato un anticipo sui tempi entro la fine di giugno per rendere fruibile il nascente polo della cultura, nello snodo tra Irioni Verderuolo e Santa Maria, realizzato dal suo predecessore Nicola Valluzzi con investimenti per 6,5 milioni di euro, 5,2 dei quali con un mutuo contratto dell'ente provinciale e completato grazie ad un accordo regionale e nazionale per 1,4 milioni. A causare il ritardo è emerso il trasferimento ancora in corso dei circa 250.000 volumi dalla sede della Biblioteca Nazionale di Via del Gallitello. Già pronte invece alcune sale con arredi e strumentazioni, mentre bisognerà affidare il servizio ristoro con apposito bando. Altamente innovativo, il nuovo complesso culturale del capoluogo lucano è composto da nove livelli in superficie e due sotterrani adibiti ad archivio specializzato per l'antiusura dei libri. Unificherà i poli bibliotecari potentini ed i locali della vicina Pinacoteca con ampio parcheggio a disposizione degli utenti. Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità matera una quattro giorni di studi presso il nuovo campus universitario. Vediamo i dettagli. Sensibilizzare la comunità mondiale al processo in atto del cambiamento climatico e contribuire a rallentarlo è l'obiettivo della comunità scientifica rispetto al tema percorso sul quale è inserita anche la quattro giorni dalla 17 al 20 di giugno organizzata a materia dal Dipartimento delle Culture Europee del Mediterraneo in collaborazione con l'Alsia alla presenza di autorevoli presenti anche della FAO. Cosa fare per contrastare il cambiamento climatico? La prima cosa è ridurre l'emissione in atmosfera di gas serra. Tutte le energie producono un effetto di CO2 in atmosfera o CO2 equivalente quindi ognuno di noi può utilizzare in modo parsimonioso le energie del nostro sistema. L'acqua per esempio è un bene molto importante che dovremmo usare con parsimonia così anche tutto il nostro modo di vivere deve cambiare riflettendo che ogni energia che noi utilizziamo nel nostro sistema inevitabilmente produciamo CO2 da mettere in atmosfera. Qual è la situazione nel sud Italia? Il fenomeno che sembra molto lontano invece è molto vicino. La quantità di acqua che piove sostanzialmente potrebbe essere anche la stessa nei nostri climi, nelle nostre regioni. Però quello che stiamo attendendo è l'evento precipitoso cioè si cumulano i limiti di acqua che piovono in pochi mesi e in eventi molto piovosi, molto intensi. Questo è un effetto tangibile dei cambiamenti climatici. Un problema tangibile è la salinizzazione dei suoli e la perdita della fertilità dei suoli stessi. Noi se stiamo nei suoli per esempio del metapontino abbiamo la sostanza organica inferiore all'1% e quindi è un indice di desertificazione dei suoli. Quindi i suoli stanno perdendo la loro fertilità. Quindi un'attenzione importante a tutti coloro che governano appunto il territorio. L'unità operativa complessa di radiologia diagnostica e di interventistica dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera è ufficialmente un centro osservazionale internazionale CIREL promosso dal CIRS, la Società Europea di Radiologia Interventistica. È infatti in corso uno studio che ha come obiettivo quello di categorizzare all'interno della normale pratica clinica l'utilizzo del trattamento di chemioemobilizzazione epatica mediante microparticelle precaricate con iriradiamento. La procedura di chemioemobilizzazione intraarteriosa della metastasi epatica da tumore del colon retto è già da diversi anni effettuata presso la stessa unità operativa e si propone come terapia alternativa o complementare la più nota e convenzionale chemioterapia sistemica nei pazienti non candidati alla chirurgia o alla termoablazione. Matera 2019 a Roma, il bilancio dei primi sei mesi di attività illustrate alcune nuove iniziative. Vediamo. 450 gli eventi organizzati di cui il 67% a Matera e il 33% in località della Basilicata. 180 i progetti totali elaborati di cui il 68% già attivati il 27% già conclusi e il 5% ancora da attivare. L'82% della produzione si caratterizza per essere nuova e originale. Sono i principali numeri dei primi sei mesi di attività di Matera Capitale Europe della Cultura 2019 presentati a Roma presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali dalla dirigenza della Fondazione Matera Basilicata 2019 e dal Comune di Matera alla presenza anche di rappresentanti del MIBACT. 36.000 ai passaporti venduti al 31 maggio 2019 ossia il carnet di ticket utili ad accedere agli eventi. Di questi 12.500 e il 34% è stato acquistato da turisti 23.800 e il 66% dai lucani. Le persone che hanno utilizzato il passaporto almeno una volta per partecipare alle attività sono 17.900. In totale gli accessi agli eventi, ossia di persone con e senza passaporto, è quantificato in 80.000 persone a cui si aggiungono le 50.000 della cerimonia inaugurale. Tra le attività più seguite al momento, la mostra Rinascimento con 11.000 accessi, a seguire Arse Scavandi 9.000, Materia Pietra 3.000, Idea 1.250, la Secretissima Camera dello Corre 1.000, Memory con 800. Per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo, il più seguito al momento è Circus con 7.000 accessi totali, Future Dix 2.500, Purgatorio 1.000. Tra gli altri spettacoli dal vivo, Arturo Braghetti, Fiona May, Emilio Solfrizzi, Vegetable Orchestra, in totale hanno totalizzato 3.000 presenze. La fascia di età più coinvolta negli eventi è quella dai 21 ai 30 anni, a seguire quella dai 10 ai 20, dai 31 ai 50, chiude la fascia dai 51 ai 90 anni, che comunque hanno totalizzato un 16,23% del totale. Il 52,17% dell'utenza è stata a Materana, il 9,94% lucana, europei il 3,88%, extra europei l'1,08%, italiani non lucani il 23,9%. Tra i prossimi eventi la mostra quando l'Italia non era unita a storie e personaggi degli archivi di Stato, che si terrà nel mese di luglio. Grande successo a Matera, ieri per il concerto del trio Il Volo. Vediamo. Ormai abbiamo preso la residenza qui a Matera, signore. Siamo qui da una settimana, conosciamo tutti i panifici, tutte le farmacie, tutti i residenti. Siamo completamente innamorati di Matera. Così il volo è esordito sul palco dell'arena nella settecentesca Cava del Sole, dopo aver aperto il concerto con un grande classico, Il Mondo di Jimmy Fontana. Il mondo non serve maggiore, seguito dall'amore si muove, brano iconico dei loro primi dieci anni di carriera. L'amore si muove, ti porta allontano se vuoi. Matera è entrata nel cuore del trio musicale, che ha scelto la Città dei Sassi come prima tappa del World Tour che si concluderà nel maggio 2020. Nell'arena, illuminata dalla luna piena, i cantanti hanno interpretato i brani della tradizione italiana e americana contenuti nel loro ultimo album Musica, accompagnati dai musicisti dell'orchestra Magna Grecia, diretta dal maestro Piero Romano. Non solo brani a tre voci, ma anche duetti e pezzi da solisti, nei quali Ignazio, Piero e Gianluca hanno mostrato le mille sfumature della loro voce. A chi mi dice, lontano dagli occhi, my way, core ingrato, musica che resta, pezzo con cui al 69esimo festival di Sanremo hanno conquistato il podio e che hanno interpretato con l'accompagnamento musicale del violinista Alessandro IV, tornato poi sul palco per un'esibizione da solista. Il tutto intervallato da divertenti dialoghi fra i tre ragazzi, che sono stati bravi a coinvolgere le 1500 persone presenti tra il pubblico. Molto dolce, il momento in cui, durante il loro brano Ovunque Siete è vicinissimo, i cantanti seduti sugli scalini sono stati circondati da bambini e adulti, prendendo parte ad un grande abbraccio collettivo. Sulle note di Nel Blu dipinto di blu, omaggio a Domenico Mudugno e di grande amore, il volo ha dato la buonanotte all'intera platea, radunatasi sotto il palco per cantare insieme e cercare di stringere un'ultima volta le loro mani. senza smettere un secondo fino a quando ci terzo fino all'ultimo salto di amera E restiamo a Cava del Sole con il volo solo il primo di una serie di eventi nel teatro all'aperto ne abbiamo parlato con lo staff tecnico della struttura. Ascoltiamo. Un luogo unico e straordinario per Matera non solo location per grandi eventi ma una nuova attrazione da visitare e vivere nella capitale europea della cultura. Prende finalmente vita Cava del Sole struttura polifunzionale per le arti performative suddivise in tre grandi aree già apprezzata per la cerimonia inaugurale del 19 gennaio e che con il concerto del volo ha inaugurato il grande teatro all'aperto. L'arena con una capienza massima di 5.000 persone in piedi o in alternativa di 3.408 posti a sedere e fiore all'occhiello della cava settecentesca e si prepara a ospitare eventi di caratura internazionale. Le attività di gestione sono curate dalla società Studio Ega SRL che si è giudicata la gara d'appalto. Con una serie di professionisti e maestranze Studio Ega dopo l'Expo e dopo la G7 di Taormina è protagonista di un altro grande evento per l'Italia. Sì, siamo appunto molto contenti di essere a Matera di essere parte di questo più grande evento che vede la cultura in primo piano e di avere questo palco incredibile appunto messo a disposizione di tutti. È una struttura abbastanza impegnativa ma siamo comunque tanti e disponibili a far funzionare questa struttura al meglio. Non saranno poche le sorprese e gli spettacoli da ammirare qui a Cava del Sole? Assolutamente no, la stagione è abbastanza ricca, avremo concerti, orchestre, probabilmente anche qualche spettacolo di danza. E parte da oggi su TRM Network il consueto appuntamento con il format Aspettando il 2 luglio è dedicato all'avvicinamento verso la festa in onore di Maria Santissima della Bruna a Matera nel prossimo servizio contenuti ed orari. Vediamo. Si rinnova con entusiasmo e spirito di servizio l'appuntamento su TRM Network di Aspettando il 2 luglio trasmissioni quotidiane che come sempre precedono la festa della Bruna per entrare nel vivo delle celebrazioni. Con ritmo incalzante gli spazi tematici racconteranno tutte le iniziative che preannunciano l'evento con ampio spazio dedicato al rapporto tra la comunità e la festa cogliendo gli aspetti civili e religiosi. Un format scandito da contributi, ospiti, immagini in anteprima e di backstage per vivere insieme l'attesa del giorno più lungo per i materani. Non mancheranno sorprese e novità a partire dal 23 giugno quando con la trasmissione in diretta della benedizione del carro trionfale prenderà il via una produzione editoriale serale dalla fabbrica del carro. Aspettando il 2 luglio sarà trasmesso sui tre canali del buchè di TRM Network TRM al canale 111 del digitale in Basilicata alle 13, alle 15, 23 e alle 9 in replica del giorno successivo su TRM H24 al canale 16 del digitale in Basilicata e Puglia e 519 di Sky alle 14, 15, 18 e 15 20 e 15 e 23 e 45 con la replica alle 9 e 45 del giorno successivo e TRM Art al canale 602 in Basilicata e 296 in Puglia alle 15 e 30 19 e 30 21 e 30 e mezzanotte con replica alle 10 del giorno seguente. E con la solenne processione per le strade del Rione La Nera si sono conclusi a Matera i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio la statua del Santo portata a spalla e adornata con i caratteristici gili bianchi e tornata poi nella chiesa che porta il suo nome ai momenti religiosi a cui partecipano sempre più fedeli e devoti anche un programma civile che ha visto l'esibizione sabato sera della cover band dei Pum mentre il 20 giugno alle 20 e 30 nell'atrio della parrocchia in programma l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. E nello studio Arti Visive a Matera è inaugurata la mostra nel silenzio degli spazi infiniti omaggio a Giacomo Leopardi di Marisa Settembrini. Lo studio Arti Visive di Matera in occasione della ricorrenza del bicentenario dell'infinito di Giacomo Leopardi ha voluto così presentare una personale di Marisa Settembrini dedicata all'idiglio del poeta di Recanati a partire da venerdì 14 giugno sino a domenica 23 giugno 2019 lo spazio espositivo di Via delle Beccherie ospita 15 teleri tale progetto espositivo unisce idealmente la città di Matera capitale europea della cultura 2019 a Recanati nel comune celebrazione del poeta cui la mostra la nostra regione ha dedicato in passato anche altre iniziative. La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 23 giugno 2019 dalle 19 alle 21 parliamo di calcio di serie C superato lo stallo del rinnovo della convenzione dello stadio Alfredo Viviani in coabitazione con la Z Picerno nella prima parte del prossimo campionato 2019-2020 il potenza è entrato nel vivo del calciomercato per puntellare la rosa a disposizione del riconfermato mister Giuseppe Raffaele già comunicati i rinnovi del portiere Ioime i terzini Panico Sales e Pepe i centrocampisti Coccia Dettori Emerson e Ricci il presidente Cagliata e i suoi fedelissimi provvederanno a imbastire il reparto offensivo dopo il riconfermatissimo capitano Franza dovrà essere affiancato da nomi di peso da capire le volontà di Guaita a scadenza del contratto mentre sono certi gli addi di Genchi con contratto fino al 2020 che ha reso al di sotto delle aspettative del potentino Murano gravato da infortuni tra i sogni della tifoseria Rosso-Biulù il 35enne Granoscio punta Uruguayana in forza alla Triestina L'assemblea dei soci dell'Olimpia Basket che si è riunita lo scorso venerdì 14 giugno ha chiesto ed ottenuto dei vertici della società di posticipare al 30 giugno rispetto alla data prestabilita del 15 giugno il termine ultimo per manifestare un concreto interesse e contribuire al sostegno economico della società per garantire in primis l'iscrizione al campionato di Serie B nei giorni scorsi infatti il presidente dell'Olimpia Pasquale Lorusso aveva ribadito l'urgenza di nuovi innesti che possano contribuire alla gestione economica del club che da troppi anni si poggia unicamente sulle disponibilità dell'azienda Bauer e da qualche stagione anche dell'azienda Ingest del vicepresidente Rocco Sassone ed era questa l'ultima notizia del TRM giornale grazie dunque per averci seguito vi do appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti